Musica Da dove cominciamo? Che dici di quell'edificio laggiù? Ah, intanto è quello con le torri di guardia? Sì, scopriamo cosa facevano la guardia Per me va bene È tutto... cioè... sono senza parole Miseria ladra, Nathan! E questo può essere senza parole Dovranno impiegato a costruire questo posto Anni, decenni forse Ma come l'ha fatto a tenerlo segreto per tutto questo tempo? No, è solo che... Questo è stato tesoro È una scoperta incredibile Chiusa, ovviamente No, è solo che... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, intendo, ti metti in combutta con questi criminali malfamati e... e poi? Beh, ti godi la vita. Beh, provi un riparo... ti ammazzi di gronchi. Non c'è di peggio? Ah, certo. Ma ti servisci la statua di Avery ogni giorno? Eh, hai mai... ti sei mai chiesto come sarebbe andata se... avessi fatto altre scelte? Ti può non mollare la tua carriera d'amato? Avrei fatto molta strada. Non avresti fatto un chilometro. Ehi, sei una cosa, sei invidioso. Lo sei sempre stato. Beh... Il mio boccale è vuoto. Già, stavo giusto per lamentarmi del servizio. Ehi, sei... Grazie a tutti Guarda qui Sam, sembra un codice di condotta per pirati Credevo che questo posto si basasse sull'assenza di leggi Anche le navi pirata avevano le loro leggi Grazie a tutti Capitano Avery, chiedevo quando ti avremo incontrato Grazie a tutti Di qua, dietro di me Sam, vieni qui, forse c'è qualcosa E' una specie di nascondiglio Guarda qui, sembra una mappa del quartiere commerciale Sì Boom, ma qui c'è il nostro tesoro, vedi? Ecco la torre Cosa architettavano? La nostra via d'uscita Vedo una luce là sotto Oh cazzo Senti Qui c'è un altro pezzo di colonia Chissà, guarda qui Ok Qui c'è un altro pezzo di colonia Oh cazzo Senti 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 Non so Senti 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 Solo Senti 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 Inghilterra! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Grazie a tutti 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 Ok Bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Oh, oh, merda Attento allo scalino Incredibile Già Poco male, continua a salire Come va là dietro? Ti è vista mozza piatto Ci siamo quasi sempre Oh, sarebbe un bel tuffo, eh? E come me, ok? E come me Cioè, dovrei fare quella roba? Sì, qualcosa del genere Oh, lì siamo senza dubbio nel quartiere di lusso Un residenziale, però, tipici Deve essere un edificio amministrativo Probabile Forse Libertà li aveva un governo locale Qu'è lo sa? Oh, lì siamo senza dubbio nel quartiere di lusso Oh, lì siamo senza dubbio nel quartiere di lusso Oh, lì siamo senza dubbio nel quartiere di lusso Santo cielo Cannoni, barricate di fortuna Cos'è successo qui? Il punto è chi combatteva chi? E perché? Scuni dei cadaveri Abiti particolari Sembrano Wow, è impressionante Oh, forse no, vuoi aiutarti? Sì È vuoto? Ovviamente È stato Rafe? No Qui nessuno ha toccato nulla per centinaia di anni Giusto Quindi Cerchiamo indizi? Sì Cerchiamo indizi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti